Eccoci pronti per un nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo, che cominciamo con la riete. Nel settore lavorativo un filo di tensione sarà quasi tangibile, non perché qualcosa andrà male, anzi, vi attende un periodo molto importante, toro. Le emozioni vi travolgeranno, in alcuni casi anche a tradimento, e vi lasceranno senza fiato. Se avete una storia d'amore in corso, vivrete momenti molto intensi, soprattutto sotto il profilo erotico. Gemelli, giornate e galeotte per molti di voi. Naturalmente nel mirino di Cupido ci saranno principalmente coloro che sono single. Cancro, potrete sbaragliare ogni avversario, realizzare molti dei vostri progetti, ricevere proposte vantaggiose e meritati riconoscimenti. Leone, produttivi si riveleranno i contatti con l'estero e con gli ambienti finanziari e amministrativi. Buone notizie arriveranno a chi lavora nei settori culturali e scolastici. Vergine, giornata decisamente invitante, si annuncia alla vostra porta. Vi sentirete amati e desiderati dal partner e questo è proprio quello che conta. Bilancia, non mancheranno novità, piccole sorprese, cambiamenti significativi, tutto quello che serve a movimentare piacevolmente la vita. Scorpione, chi soffre di qualche malessere contratto nei mesi passati potrà notare dei netti miglioramenti e anche arrivare a risolvere del tutto il problema senza doversi impegnare troppo. Sagittario, dovrete mettere ordine nelle vostre faccende affettive. Alcuni di voi si libereranno da una storia stagnante ormai giunta al capolinea. Capricorno, l'amore, se siete single, sarà al centro della vostra attenzione, dei vostri pensieri e delle vostre giornate, complice un'intesa magnifica con la persona amata o un incontro mozzafiato. Acquario, entusiasmo, spirito di intraprendenza e lucidità mentale porteranno lontano soprattutto sul piano della creatività. Pesci, sarete precisi e organizzati come non mai e affronterete ogni aspetto del vostro lavoro come se fosse una sfida a cui dovete rispondere a tutti i costi. E anche per oggi l'appuntamento con l'oroscopo si è concluso ma tornerà domani alla stessa ora.